Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo presentarvi e volevo farvi una video recensione dei Walkie Talkie on Channel 110 della John Out. Questi Walkie Talkie li ho presi qualche giorno fa ad Ekatron con il costo di 30€, precisamente 29,99€. Allora, comincio subito col dirvi che ci sono già le batterie incluse e ci sono due Walkie Talkie. Ve lo dico perché in alcuni costano 30€ uno. Allora, qua il raggio di portata, cioè la portata, dicono che in città con tanti ostacoli, quindi case, automobili, tantissimi ostacoli, dicono che è 300 metri, ma voi fategli lo sconto di 20 metri, 50 metri, ma comunque 250 metri sicuro li fa. Allora, un chilometro è praticamente con un po' di ostacoli, infatti qua c'è scritto un po' di alberi. Qua invece 5 km, che è chiaro l'esempio della montagna, con nessun ostacolo. Posso dirvi che queste nuvolette non mentono, perché questa portata la fanno tranquillamente. Poi, qua dice che con le batterie già incluse, cioè 3 mini stilo, si fanno 20 ore, di cui 90% stand-by, quindi 90% stand-by e 10% comunicazione. Quindi, diciamo che queste 20 ore sono relative, perché se voi siete a parlare 2 ore, si finiscono le batterie. Quindi voi, qua stanno, se voi parlate per 2 ore, le altre 18 ore devono stare ferme senza niente, cioè senza parlare, senza ascoltare. E se io non parlo, ne ascolto le spengo, perciò considerate 2 ore di parlare, pieno. E poi ci sono 8 canali, dei walkie-talkie. Allora, apriamo la confezione. Guardate che sono con una mano sola. Allora, aspettate che si metta a fuoco. Comunque, sono questi qua. Si mettono al contrario, perché sennò non ci entrano nella scatola. Allora, ora invece vi illustrerò come sono i comandi, quindi come si accendono, come si spengono e come si cambiano i canali. Allora, si accendono, faccio l'esempio con uno, poi il secondo lo prendiamo dopo. Si accendono con questo pulsante, tenendolo premuto. E fanno un rumore. Allora, comincio subito col dirvi che se noi abbiamo questa schermata, questi pulsanti servono al volume. Quindi, ora aumento il volume. Quindi le è volume. 7, 8, arriva fino a 8. E voi potete abbassarlo fino a 1. Però, a 1 è troppo basso. Mettiamola a 8. Allora, 8. Voi poi aspettate che si ricompare di nuovo questa schermata. E poi, per cambiare canale, invece, intanto, se noi, per esempio, mettiamo sul quarto canale questo qua, dobbiamo mettere anche questo, altrimenti non si sentirà nulla. Quindi, per metterlo in un altro canale, si schiaccia. Poi vi spunta questo che lampeggia e voi o diminuite o aumentate, cioè 4. Possono arrivare fino a 8, come il volume. Quindi, io lo voglio mettere a 4. Poi, ripremo di nuovo e si stabilizza. E devo fare anche con questo. Vabbè, queste qua sono operazioni facili che voi, appena prenderete la mano con questo strumento, lo farete subito senza problemi. Allora, poi, una funzione che a me piace tanto è la funzione di chiamata, che si svolge con questo pulsante. Cioè, quindi, attenzione, non per parlare si preme questo pulsante, ma bensì per fare squillare questo walkie-talkie. Quindi, se io premo il tasto di questo, squilla questo e viceversa. Lo squillo è così. Quindi, premo questo pulsante e squilla. Questo qua sta squillando. Vedete? Però non c'è un tasto di rifiuto chiamata oppure... Di rifiuto chiamato, accettato, chiamata. Allora, quindi si può fare matematicamente anche con questo. Allora, per parlare si preme questo pulsante sul laterale. Quindi, questo si parla. E ora io parlo e avvicino il microfono all'alto parlante. Cioè, ora sono vicini, perciò... Ciao, ciao, ciao. Allora, si è sentito male perché sono troppo vicini. Va bene, io direi di... Di finire questa recensione. Spero che il video mi sia piaciuto. E iscrivetevi al canale. E mettete un like, soprattutto. Ciao, ciao.